allora ascoltate vi chiedo gentilmente vi chiedo gentilmente se giuseppe simone deve continuare a fare video oppure no perché io non ci guadagno nulla perché se voi dopo tanti acclamati appelli nel cercare il lavoro la vagina e io non l'ho vista neanche con il controbinocolo io poi e poi devo passare i guai i guai grossi cioè a me non me la che non chi cazzo me la fa fare capisci ma da fine dei conti chi cazzo me la fa fare di fare dei video cioè youtube youtube mi ha dato quella possibilità di essere un po conosciuto in tutta italia chiudetemi ditemelo voi ditemelo voi cioè non lo so io sono un poveraggio disoccupato che non ho un centesimo di euro senza vagina e sto nelle mie le persone mi vuole così inculare che sarebbe così contenta da vedermi dietro le spalle io non ho fatto di male a nessuno non ho spacciato droga non ho ucciso nessuno amo gli animali non ho ucciso nessuno non ho ucciso nessuno non ho ucciso nessuno non ho mai scoperto il mio ucciscio nel progetto il mio ucciso nel progetto fucq mi prezi fucq 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 mi prezi appunto sì mi sembra che il termine sarebbe questo fucq 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 che cosa sarebbe mai sto fuc mi please non lo so non lo so poi insomma sono delle terminologie che insomma che tutto nuove che io sono rimasto incuriosito poi i manichini uomo non sono datati di uccello è uno scandalo è uno scandalo i manichini di uomo di plastica non sono dotati di uccello proprio senza parole non ci si mette per questo che non so non c'è il secondo proprio il modo sì per se si e etc cioè è la l'idea nel l'esercito No, no, no ... Non invece è così nastiale Non c'èore sentirsiceptivo Non c'è solo qualcosa di citivo Non c'è住 separation Ma lì è verissimo Siete della merde Ma delle merde c'è un cantiso A questo punto io chiudo Ehhhh Chiudo comedy Non so E cazzo, e cazzo.